La situazione dei dipendenti del Ciappi è che comunque cercano di portare avanti l'attività formativa per quanto è possibile, con grosse difficoltà, ma ormai con oltre tre anni senza essere ritribuiti sono allo stremo delle forze. Ormai vivono di contributi di parenti, amici, qualcuno dorme in macchina, con una situazione veramente tragica. Una crisi senza fine, quella dei lavoratori del Ciappi, il centro interaziendale addestramento professionale industria, partecipato interamente dalla regione Abruzzo, gravato da 10 milioni di euro di debiti, e con stipendi non pagati anche di 36 mesi, con alcuni dipendenti costretti addirittura a dormire in macchina e che campano con gli aiuti di amici e parenti. Oggi una delegazione di questi lavoratori ha incontrato il vicepresidente di giunta Giovanni Lolli, chiedendo per l'ennesima volta cosa intende fare la regione per uscire dal tunnel e chiedendo l'UMI in particolare sullo stanziamento straordinario di 700 mila euro, annunciato ma mai erogato, necessario a dare almeno un po' di ossigeno ai lavoratori allo stremo. Riuscire a svincolare quell'impegno di 700 mila euro preso a dicembre dal Consiglio regionale all'unanimità e che però non ancora vengono svincolati in quanto manca la variazione di bilancio. Il vicepresidente Lolli e il direttore del Dipartimento Risorso e Organizzazione Ebron d'Aristotile hanno assicurato che 700 mila euro saranno erogati il prima possibile. Per il futuro, ha poi spiegato Lolli, la soluzione non può che essere quella di staccare la spina e liquidare l'ente, vendere il vendibile per pagare gli stipendi arretrati ai dipendenti e ricollocare tutti coloro che non andranno in pensione come collaboratori nei vari progetti europei di formazione. L'idea è andare a una liquidazione, recuperare i beni e quindi poter pagare intanto le aspettanze dei creditori, i principali creditori sono i lavoratori. I lavoratori con le loro attività invece che sanno fare, possono fare, vengono impiegati in attività utili per questa regione.